La provincia di Pesero-Urbino potrebbe essere assorbita dalla nuova Emilia-Romagna, mentre il resto del territorio marchigiano è incorporato dentro una nuova regione adriatica comprendente Abruzzo e provincia di Rieti. Questa ipotesi è inaccettabile. È preoccupato il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni, che interviene sulla riforma istituzionale, chiedendo al presidente Luca Ceriscioli di discuterne con l'Assemblea legislativa e di essere trasparente sul tema che riguarda il futuro dei marchigiani. Intanto ci sono due proposte di legge di due parlamentari del PD, depositate già ad aprile di questo anno, che chiedono l'accorpamento in 12 regioni delle attuali 20 regioni e soprattutto chiedono che il centro Italia formi un'unica regione, cioè Toscana, Umbria e Marche, con un fatto che secondo me è molto grave, che in questa proposta di legge, depositata appunto dai senatori, dai parlamentari, dai deputati del PD, c'è che la provincia di Pesero-Urbino, compreso Afano, venga staccata dalla regione Marche e venga accorpata all'Emilia-Romagna, diventando il sud dell'Emilia-Romagna. Io ritengo che questa proposta vada assolutamente smentita da un voto chiaro in consiglio regionale e quindi per questo proposito ho depositato una mozione chiedendo ai consiglieri regionali, in particolar modo a Ceriscioli, di chiarire qual è la sua posizione, perché se il suo partito a Roma propone di smembrare le Marche, bisogna che il consiglio regionale, che è competente in materia, decida che cosa fare, soprattutto perché già oggi le Marche sono abbastanza influenti rispetto alle dinamiche strategiche nazionali. Se noi andiamo con la Toscana e con l'Umbria e una parte di questa regione va con l'Emilia-Romagna, veramente non rimane più niente di quella capacità, almeno di autodeterminazione del nostro territorio e diventeremo sempre più marginali, perdendo anche quel poco di sovranità e di autonomia che avevamo.